All'attestata della Valnure si erge l'imponente bastione roccioso del Groppo delle Ali ai piedi del quale nel 1966 venne costruito dai volontari del Club Alpino Italiano un piccolo ma grazioso bivacco dove possono trovare il rifugio, gli escursionisti in caso di temporali o utilizzarlo come tappa nei trekking che è possibile effettuare sulle montagne di Ferriere. Il bivacco è raggiungibile dal passo dello Zovallo percorrendo il sentiero numero 001 e da Selva di Ferriere percorrendo il sentiero numero 007. Nelle vicinanze del bivacco si trova il punto di partenza di una sicura ma impegnativa ferrata, la ferrata Mazzocchi. Ideata e costruita dai volontari del CAI di Piacenza che da decenni ne assicurano la manutenzione rendendola liberamente disponibile a tutti gli amanti della montagna.